Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo clip Oggi in questo video mi parlerò che a me, certo che sei solo tu qua, sei solo tu, porco buta, sei solo tu Allora, oggi la prima cosa importante, sembra questa storia, sei solo tu Federico, sei solo tu, sei solo tu Sei solo tu, questo anno è nato, sui Vabbè, stiamo dicendo che in questo video finiremo e ci saranno nuovi video molto figli che stanno per arrivare, ma stanno per arrivare Quindi, eccoci qua, nel video della gym, nella controllo gym, dove ci saranno sfide di gym, di palestra e di basket Io amo il basket Io amo il basket Poi lavorare Facciamo un botto di cose molto fighe, noi ci becchiamo al prossimo video Bella a tutti, bella gente, noi ci becchiamo Al prossimo video da me Dal mio ego A voi In studio O i bevi Vi aspettiamo nella racconta Ad oggi O i bevisi